la sera, Tom Cruise dove andava? e detto così dice vabbè dove andava? avendo visto Ice White Shot bravo immaginate che si mette quel cappotto lì, va a casa di Steven Spielberg a vedere i film questa è una cosa veramente bella molto bene Pasco molto bene Zino non hai detto e siamo live lo stavo per dire siamo tornati e siamo anche molto felici perché facciamo una puntata in collaborazione con Sky Italia cosa che ci rende alquanto soddisfatti dato che siamo cresciuti grazie a Sky Italia la nostra passione cinematografica nasce in Sky Italia e inoltre Sky Italia ci porta un ospite d'eccezione signori e signori Francesco Castelnuovo very good very good grandi 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 questi ragazzi detti anche lag o gal Pasco, Zino, Andre come stai Francesco? bene bene grazie di essere venuto a trovarci grazie a voi grazie a voi in questo luogo io mi scuserò da subito perché non ho il timbro da basso sovietico di Zino Zino fai tirare la tua voce? quando parlo così senti che meraviglia mamma mia Zino le conquista tutte Zino potentissimo Zino infatti potentissimo e tra l'altro facciamo una puntata su un personaggio che è incredibilmente interessante secondo me da indagare in tutta la sua epopea cinematografica che è Tom Cruise personaggio che anche noi in qualche modo ci siamo cresciuti con Tom Cruise assolutamente però io vorrei iniziare da una data poi facciamo un po' di freestyle però iniziamo da una data che è 1996 ovvero quando esce il primo Mission Impossible e nasce Zino pure nasce anche Zino anno dopo e volevo chiedere a Francesco prima di dire come per noi può essere stata questa esperienza cosa significa dal tuo punto di vista anche nella tua esperienza sia come giornalista come critico sia come persona che ama il cinema l'arrivo del primo Mission Impossible io non posso rispondere a questa domanda prima di aver fatto una cosa perché scusate adesso ve lo vedete guardate 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 Giovanni ecco qua lui ha messo che te credi che io non sei da meno bellissimo bellissimo mamma mia adesso ci siamo tutti o due adesso posso rispondere adesso posso fare come appunto nel secondo Mission Impossible quando lui lancia lancia gli occhiali allora cosa significa quel 1996 1996 1996 è una data fondamentale per l'uomo di cui stiamo parlando per la saga di cui stiamo parlando cioè Mission Impossible proviamo a tornare indietro innanzitutto quanti anni ha? l'inizio quindi 1996 più 4 sono 28 anni fa tanto tempo fa dobbiamo tornare a un Tom Cruise che aveva circa 32-33 anni ok e che non è che aveva fatto tantissimo in termini di mega blockbuster certo aveva fatto il primo Top Gun del grandissimo Tony Scott e aveva ricevuto la sua prima nomination all'Oscar come miglioratore protagonista per Born on the 4th of July di Oliver Stone nato il 4 luglio però insomma era lì che che premeva che premeva e ritornare a quel 1996 parlando di Tom Cruise Mission Impossible è interessante perché c'è una storia molto bella che ci fa capire come questa saga che poi lo vedremo via via è stata diretta da importantissimi nomi Brian De Palma John Woo Brad Bird J.J. Abrams in realtà questa sarà la mia tesi portante che ha un grande solo regista che è lo stesso Tom Cruise perché perché Tom Cruise nel 1995 un anno prima credo va alla Paramount e dice io vorrei fare un film tratto da questa serie appunto Mission Impossible la serie che era andata in onda tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 di cui lui era un grande fan va dalla Paramount e gli mette giù subito dice non è che vado tanto per il sottile io voglio un film da 70 milioni di dollari quindi la Paramount subito fanno aspetta un attimo Tom Cruise ma perché però noi penseremo a qualcosa di meno 40 milioni di dollari insomma nell'iniziale discussione appunto su quanto sarebbe dovuto costare questo primo Mission Impossible nel frattempo la sera Tom Cruise dove andava e detto così dice vabbè dove andava avendo visto Ice White Shop bravo immaginate che si mette quel cappotto lì ma invece di finire diciamo lì Figaro e compagnia beh Fidelio e compagnia va a casa di Steven Spielberg wow a fare che a vedere i film bellissimo cioè questa è una cosa veramente bella perché denota come quello che poi lui racconta e continua a raccontare cioè che io sono fondamentalmente innanzitutto un grande spettatore di cinema lo era veramente andava a casa di Spielberg a vedere dei film insieme e a imparare da Spielberg una sera era il periodo in cui lui stava girando intervista col vampiro ok si presenta a casa di Spielberg e Spielberg ha a cena niente po' di meno che Brian De Palma pazzesco lui rimane veramente molto colpito dalla presenza di Brian De Palma anche se diciamo non aveva fatto bene i compiti e lui è uno che vuole sempre fare bene i compiti quindi finita quella serata torna a casa e si guarda praticamente magari non quella serata ma insomma nei giorni successivi si guarda tutta la filmografia di Brian De Palma dopodiché gli propone di diventare il regista del primo Mission Impossible il primo Mission Impossible voi vi ricorderete aveva come uno dei set principali Praga qual è la scena che ci ricordiamo di più del primo Mission Impossible vediamo un po' è lui che si cala esatto quella io mi ricordo tantissimo gli interni della prima casa una vasca da bagno queste immagini con una vasca da bagno quasi inquietante di quando lui sta iniziando a gestire la situazione ma c'era un'altra mega vasca è vero una scena quale? quella del ristorante certo ok e questa questa scena comincia a far capire a Brian De Palma e poi farà capire a tutti quelli che seguiranno che Tom Cruise la vuole fare veramente in una maniera diversa dal solito cioè vuole che quella scena che di per sé non è particolarmente pericolosa come tutte quelle che invece farà più avanti però insomma in cui a un certo punto quando esplode quella mega vasca del ristorante con i pesci pezzi di vetro che possono la vuole fare lui da lì comincia questa questa saga che ha a che fare l'abbiamo già detto con la capacità di Tom Cruise di essere il regista vero il regista produttivo con il suo grande amore per il cinema veramente il grande amore per il cinema prima appunto le lezioni prese da Steven Spielberg e poi l'amore per il cinema di Brian De Palma e poi questa roba qui degli istanti di cui adesso parleremo via via 1996 il film esce a maggio del 1996 costò alla fine costò tra i 70 e 80 milioni di dollari come ha detto lui ma ne incassò 457 worldwide e tanto per dirvi uno di cui parleremo stasera cioè l'ultimo capitolo Mission Impossible Dead Reckoning ha incassato quest'anno cioè il 2023 567 provate a fare il paragone tra i 457 milioni di dollari del 1996 e i 500 quindi un mega incasso un mega incasso e lì si apre la grande saga di Mission Impossible e si apre anche un nuovo un nuovo modo di di concepire il rapporto con con il cinema d'azione che lì per lì ancora non si vede ma si vedrà più avanti adesso ne parleremo infatti grazie perché è stato fighissimo anche perché poi come è sempre importante ricordarsi quanto dietro un film ci possa essere una storia e quindi la storia di Spielberg la storia di De Palma la storia di un Tom Cruise che fa sempre i compiti che è uno stacanovista sono tutti elementi che sono determinanti per tutto il discorso che stai facendo anche su quanto poi lui tiene le redini di una saga che va avanti per praticamente 30 anni ti dico la prospettiva di uno come me che vede Mission Impossible già in ritardo perché io nel 96 avevo un anno quindi Mission Impossible lo vedo 10 anni dopo 15 anni dopo e vedo un film che ha quella combo tra una certa autorialità del cinema d'azione che De Palma possedeva divinamente che aveva rivelato in tantissime opere però con una certa capacità di grande narrativa perché alla fine i Mission Impossible sono delle storie tutti vivi tutte le storie con i talent protagonista ma sono delle storie che hanno sempre alcuni di quei classici valori un po' dell'eroe americano però rivisti in una chiave action che non li fa invecchiare Mission Impossible 1 è proprio un bel film sinceramente un bel film allora grazie Andrea perché così entri in uno dei punti più dolenti adesso l'hai presentata in maniera positiva ed è bello sentirlo in questa chiave ma il discorso delle storie dei Mission Impossible cioè delle trame degli script è una storia diciamo accidentata ok allora stiamo al 1996 ancora e stiamo anche all'Austria di Brian De Palma Brian De Palma è diciamo un maestro del cinema che ogni maestro ha un suo trademark grandi volteggi di camera spesso attorno o dentro delle degli stabili degli stabili neoclassici cioè se ricordiamo per esempio in Untouchables gli intoccabili il modo con cui muove la macchina da presa non solo nella famosa scena della stazione ma anche nell'hotel lui rotea è uno che ama roteare ok quando finisce il primo Mission Impossible Brian De Palma gli viene chiesto di girare anche il secondo e lui e lui declina in realtà in realtà questo questo rifiuto corrisponde anche a qualcosa che Tom Cruise che tra l'altro è una persona super educata cioè lui è uno stacanovista che fa i compiti ma è uno anche che ha un certo senso un certo codice d'onore per citare diciamo un altro titolo però lui è Paula Wagner perché ricordiamoci che il primo Mission Impossible è anche il primo film che porta la firma da produttore di Tom Cruise lui lì mette la firma avevano tra loro visto che malgrado il successo questo primo Mission Impossible mancava un po' di azione mancava un po' di azione e allora cominciano a cercare e alla fine cascano diciamo per così dire su John Woo John Woo che aveva fatto non mi ricordo quanto prima Face Off quindi John Travolta Nicolas Cage ma soprattutto appunto ricordiamoci che poi Tom Cruise a quel punto studia 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 aveva dato il là al nuovo cinema d'azione asiatico con con l'uso per esempio delle multiple cameras ok quindi uno stile che oggi è abbastanza l'alfabetizzazione corrente ma all'epoca non era così diffuso e cascano su di lui perché hanno voglia che il successivo sia un po' più intriso di azione perché quell'aspetto che tu trovavi Andrea anche fascinoso anche per così dire old style mettiamola così di Brian De Palma ha a che fare con uno stile di energia ma con un plot che via via si comincia a capire che è soggetto cioè che viene dopo le scene d'azione quando ho detto che il percorso e la storia degli script di Mission Impossible è accidentata in ogni quasi ogni Mission Impossible c'è una storia che racconta di uno script che non è mai pronto ok interessante non è mai pronto neanche quando a dirigerli sarà lo sceneggiatore Christopher McQuarrie premio Oscar nel 1996 guarda il caso per i soliti sospetti nato come sceneggiatore dei film di Brian Singer insomma cominciano a capire e il primo che lo comincia a capire è John Woo e l'allora sceneggiatore che si chiamava Robert Towne scritto T-O-W-N-E che aveva già sceneggiato il primo e sul secondo si rende conto lui dirà una frase come perché la scena più memorabile da un punto di vista action di Mission Impossible 2 del 2000 è quella iniziale in cui sta attaccato sul dead point nel parco dello Utah sulla roccia e poi c'è la famosissima meravigliosa parodia di Ben Stiller ma qui apriremo un altro capitolo ma è meravigliosa e disse una cosa del tipo credo che tra quello che avevo scritto io e quello che è rimasto nel film forse c'è solo quella scena lì insomma Robert Towne vede che il suo potere di scrittore viene viene sorpassato dalle esigenze dell'azione specie se a dirigere c'è un regista come John Woo super interessato alle multiple cameras ci sarà anche un problema in quel Mission Impossible col direttore della fotografia che a un certo punto se ne andrà da un'altra parte perché è John Woo che regna oddio non proprio regna del tutto perché poi quando vanno in sala di montaggio la sala di montaggio signore e signori è proprio l'ultimo atto in cui si vede chi regna davvero le cronache narrano che a un certo punto John Woo dovrà accedere al vero re chi ha il final cut chi ha la decisione su quello che va montato su quello che va nel film è sempre Tom Cruise questo per dirti che al di là e qui concludo la mia risposta alla tua domanda Andrea al di là della bellezza delle storie è tutto questi aneddoti che vi ho raccontato confermano che gli sceneggiatori vengono dopo i registi che c'è una sorta di squilibrio c'è una sorta di squilibrio sia per quando poi bisogna agitare ma sia per il fatto che lo scripto non è mai completo e questo viene dichiarato anche da Tom Cruise e da chi poi lavora dietro le quinte come una mano libera per la regia cioè è un trionfo di regia è un trionfo di regia al servizio però di questa idea di questo ideale di cui adesso poi parleremo cioè l'ideale delle scene d'azione che entrano entrano potentemente nell'immaginario collettivo perché prima la vedecità dalla famosa scena appunto del primo Mission Impossible in cui lui si cala quante volte è stata parodiata icona culturale quindi più che la storia cioè la prima icona prima ancora di Tom Cruise sono le sue scene le sue scene diventano icona e questo perché è un cinema al servizio dell'azione al servizio dell'azione ed è poi adesso avremo modo di dirlo quando parleremo più avanti di un altro Mission Impossible ed è se c'è un padre nobile diciamo di Mission Impossible è Alfred Hitchcock bella questa cosa che hai detto e con questa vai 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 no perché in effetti anche cioè proprio in De Palma troviamo tanto di Alfred Hitchcock viene anche definito cioè è un po' un erede in qualche modo è sicuramente la cosa che rende il primo Mission Impossible anche il mio preferito ma per una questione effettivamente di arrivarci cioè ci sono arrivato per primo e ha quel look nostalgico e quel qualcosa non tanto di Hitchcock ma più del thriller poliziesco che forse in Hitchcock io rivedo solo intrigo però è l'unico di quelli che conosco io poi Hitchcock ha fatto 200.000 film ovviamente la mia conoscenza è molto limitata però è proprio quel mood un po' poliziesco un po' lui contro la CIA contro i servizi contro tutti che mi attirava e negli altri invece diventa più anche perdersi nel movimento nell'azione nel combattimento scusami allora se adesso tu hai citato Intrigo Internazionale se io ti chiedessi qual è la trama di Intrigo Internazionale allora io adoro questi quiz no 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 aspetta aspetta non è un quiz è per tornare al concetto ma guida la storia o guida l'azione guida l'azione effettivamente mi ricordo la bomba all'interno di questo edificio la storia di Intrigo Internazionale Roger Tornil che è un pubblicitario che vive un po' sotto le gonne ancora della mamma nel senso che comunque fa un po' il piacere in giro però insomma ancora non c'è una donna stabile con la mamma che gli dice ancora sentimi Roger Tornil per una telefonata capita male viene chiamato in un luogo pubblico e c'è uno scambio di persona e cominciano a inseguirlo tutto Intrigo Internazionale che inseguono Roger Tornil pensando che sia un'altra persona ok e lì si stabilisce diciamo delle strutture del del thriller ricicocchiano e non solo e cioè il cosiddetto reluctant hero l'eroe l'eroe malgrado se cioè quello non voleva fare l'eroe ok e poi a un certo punto entrano i buoni ok che dicono si ti hanno scambiato ma se puoi dacci una mano con Yves Marisent che sul treno lo conosce eccetera eccetera c'è il treno attenzione il treno è importantissimo il treno che guarda caso c'è in Mission Impossible qual era il primo il primo c'è il mission il treno è la scena in cui lui anche nell'ultimo c'è e c'è anche nell'ultimo il treno è una cosa molto hitchcockiana ci sono molti film di hitchcock allora l'intrigo internazionale è uno delitto per delitto è un altro perché è anche il luogo degli incontri che non sai ora non ci ricordavamo la trama adesso l'abbiamo ricordata ma se io ti chiedo invece ti ricordi una scena fondamentale di l'intrigo internazionale io scommetto tu ti ricordi quella appunto della bomba nella banca la banca non mi ricordo la bomba nella banca il famoso mcguffin io ricordo l'intrigo internazionale per un esame che ho dato all'università in cui lo vidi per appunto la questione del mcguffin quindi io ti faccio vedere una bomba e poi tu spettatore sai che c'è una bomba tutti gli altri personaggi nella stanza non lo sanno e quindi io ho questa scena impressa però potrei stare sbagliando e non è nemmeno mi sa che ti stai sbagliando perché non c'è una bomba in intrigo internazionale in una banca diciamo la scena più famosa di intrigo internazionale è quella che si svolge sul monte Rushmore cioè in cui sul finale Cary Grant e Yves Marisente sono appesi sui nasi sulle facce dei presidenti statunitensi mentre James Mason e il grandissimo Martin Landau il grande Martin Landau Martin Landau che tra l'altro stava nella serie Mission Impossible alla fine degli anni 60 li inseguono per ucciderli quella roba lì che è il cosiddetto cliffhanger il cliffhanger finale e che stanno appesi allora fate il confronto tra questa scena d'azione e l'abbiamo citata poco anzi la scena di Mission Impossible 2 in cui lui sta appeso per questo dico il padre nobile perché comunque dei film di Hitchcock ti ricordi per lo più le scene perché Psycho cosa ci ricordiamo ci ricordiamo esattamente la trama vabbè un po' di più perché Psycho però è il tuo discorso effettivamente giustissimo sicuramente comunque il peso nel ricordo va più per la scena che per la trama io sono qui in un luogo da voi gestito che si chiama arte settima podcast cioè arte settima podcast la settima arte cioè lo specifico dell'arte filmica non è la storia io tanti anni fa e tanti anni fa tra le interviste tra le tante interviste ho avuto l'onore e il piacere di fare e intervistare Peter Greenaway grande Peter Greenaway che è un grande sostenitore del fatto che il cinema non dovrebbe essere letteratura filmata scrittura filmata ma che dove debba avere per così dire una vita a sé che debba per così dire cioè la macchina da presa che scrive in qualche modo la storia ma infatti ora mi è proprio chiaro quello di cui stavi parlando prima quando dicevi di sceneggiature ancora aperte sceneggiature ancora interminate ma in un senso in realtà che è proprio verso l'idea che il film si faccia nel crearlo attraverso la regia e attraverso Tom Cruise e mi fa pensare proprio rispetto a quello che tu hai detto invece a un altro elemento che è nel terzo film ovvero uno dei secondo me più bei villain degli ultimi anni ovvero Philip Seymour Hoffman in Mission Impossible 3 e mi viene un po' sognando rispetto alla tua intuizione a quello che stai dicendo da credere che Philip Seymour Hoffman abbia avuto una libertà di creare il suo villain proprio in un film che si fa nel mentre in cui la sceneggiatura è ancora in divenire la regia muove tantissimo sull'iconicità del fare grandi scene Tom Cruise è sempre lì sul pezzo ad avere una visione precisa di quello che sta facendo arriva Philip Seymour Hoffman e ti lascia un villain che sa essere oscuro come lo sono i villain di adesso cioè è un villain che secondo me anticipa alcune forme di inquietudine di oscurità che oggi ci piacciono tantissimo ma che 15-20 anni fa non erano così scontate in un film di grande intrattenimento e di grande pubblico come era Mission Impossible e tutto questo mi viene in mente ora che tu mi hai dato questa bellissima finestra su questo farsi di Mission Impossible come se fosse costantemente nel farsi mi viene veramente in mente un Philip Seymour Hoffman che dice ah io qua nonostante sia un film di grande intrattenimento in realtà posso divertirmi un botto posso fare un grande villain allora 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 questo farsi diciamo diciamo sul set che poi non è fisicamente sul set è fondamentalmente anche una allora è un'arma adesso ne abbiamo diciamo descritto il lato nobile e cioè l'arte cinematografica nella come si direbbe da un punto di vista enologico in purezza perché poi non ce lo dimentichiamo mai da dove viene la parola cinema? da coinema da? coinema da kinema kinema che vuol dire? movimento kinema vuol dire movimento da dove viene la parola movie da movimento da movimento ok quindi la specificità dell'arte cinematografica è il suo essere in movimento c'è solo un'altra arte anzi in realtà due che possono diciamo essere affratellate al cinema una è la musica che è superiore perché si muove senza bisogno di dover vedere qualcosa quindi è proprio impurezza pura è movimento in purezza pura e non è soggetta al legame con la letteratura come è spesso stato il cinema e poi la danza ok? ora ne abbiamo nobilitato l'aspetto ma c'è anche un altro aspetto questo lato aperto permette a Tom Cruise di gestirla lui ok? veniamo alla tua domanda su Philip Simo Hoffman allora loro se non sbaglio anzi credo non sbagliare insomma loro avevano già fatto insieme un film quale? Magnole benissimo anche se dire insieme è un po' così sì perché ovviamente Magnole è un film a quadri certo certo e loro un po' si incrociano perché ricordiamo Philip Simo Hoffman interpretava il dotto l'infermiere l'infermiere del padre nel film di Tom Cruise che era il grandissimo Jason Roberts Jason Roberts per chi ci sta ascoltando e non sa chi è Jason Roberts diciamo era il capo redattore di tutti gli uomini del presidente tanto per dire grandissimo attore e grandissimo momento diciamo quello lì il pianto di Philip Simo un Philip Simo Hoffman tra l'altro che sembrava quasi più piccolo anche di corporatura all'epoca e aveva fatto prima di Magnolia voi ve lo ricorderete Boogie Nights ok? in cui faceva il ragazzo sui set dei film porno ebbene lì nel Mission Impossible che hai citato diciamo è come se fosse più allargato io ho avuto il piacere di incontrare una volta Philip Simo Hoffman prima ho fatto una battuta su Zino una delle cose che sorprenderà di Philip Simo Hoffman è la voce aveva una voce diciamo che stava al pari di quella Zino veramente granitica ed era il contrario di quello che tu ti potevi aspettare cioè per molto tempo Philip Simo Hoffman è stato un character actor ok? diciamo un supporting actor certo era uno che io ho avuto pochissimi diciamo con tutte le star che sono riuscito ho avuto il piacere di incontrare per mia natura insomma e anche per l'approccio che cercavo di avere non ho mai avuto soggezione e anche per questo a volte loro hanno sentito che c'era una possibilità di scambio sempre ovviamente ricordandosi che loro sono delle star e io no ok? beh insomma con Philip Simo Hoffman un po' di soggezione c'era era un uomo che malgrado questa sua carriera all'epoca ancora da character actor era un super attore consapevolissimo delle sue cose quindi venendo a te lui che arriva su quei set in cui gli script sono aperti secondo me allora così come Tom Cruise non ha mai avuto paura di misurarsi con gli stunt peggiori appunto di stay action secondo me Philip Simo Hoffman era uno che non aveva paura di misurarsi con gli stunt peggiori delle sceneggiature con gli stunt di scrittura con gli stunt di interpretazione e quindi quello che stavi raccontando te secondo me era una delle prove a cui lui si sottoponeva perché sapeva di avere un mestiere pazzesco oddio non solo un mestiere è qualcosa che perché poi ce lo ricordiamo purtroppo che fino a fatto Philip Simo Hoffman diciamo quando hai così tanto mestiere e quel mestiere è una specie di adesso abbiamo celebrato qualche giorno fa la vittoria di sette Oscar di Oppenheimer hai una specie di bomba atomica dentro cioè fare l'attore non è una cosa non solo non è una cosa facile da un punto di vista lavorativo ti devono chiamare ma prima ancora cioè ti misuri sempre con dei demoni interiori e diciamo che quello lì li faceva abbastanza venire fuori assolutamente certo no chiaro è molto interessante quello che stai dicendo e racconta proprio una saga tra l'altro tutta la saga è disponibile su Sky on demand quindi questo è interessante perché rivedersela integralmente ti fa vedere anche tutti i passaggi di questo cinema che abbiamo citato però io a questo punto lo farei in salto cioè arriviamo a proprio per tutto il discorso che stiamo facendo a cos'è e soprattutto la domanda che ti voglio fare su Mission Impossible Dead Reckoning è cioè senza Tom Cruise non sarebbe stata capace di rinnovarsi in questo modo una saga del genere quindi quello che ti voglio chiedere è come ci arriva cosa ci arriva con Mission Impossible Dead Reckoning che tipo di cinema e quanto possiamo capire l'evoluzione di questa saga e quanto ci può ancora interessare una saga del genere hai ragione perché stiamo parlando del settimo capitolo ottavo forse addirittura no no il settimo il settimo capitolo poi adesso a luglio del 2025 avremo la seconda parte di Dead Reckoning Dead Reckoning che nel cinema era prima un titolo di un thrill di un noir degli anni 40 con Humphrey Bogart adesso diventa il sottotitolo quei sottotitoli che Tom Cruise ha voluto per tanti anni lui non amava che si chiamassero semplicemente Mission Impossible 1, 2 e 3 quindi Rogue One Protocolo Fantasio eccetera eccetera e questo Dead Reckoning che più o meno in inglese significa resa dei conti allora proviamo a prendere questo titolo per rispondere alla tua domanda Andrea dopo settima che cosa ti devi raccontare ancora Mission Impossible e c'è una cosa che racconta perché il nemico chi è il nemico in Dead Reckoning chi è il nemico in Dead Reckoning è una cosa che si chiama Entità che già lì dice vabbè ma che è un film di John Carpenter e questa Entità è un'intelligenza artificiale perché mi riferisco a questa cosa qua perché se c'è un grande motivo e per vedere il film e per stabilire che Mission Impossible Dead Reckoning ha ancora oggi essendo il settimo capitolo un posto non solo nella saga ma nel cinema recente è che in questa scelta del fatto che il nemico sia questa Entità o Entità è qualcosa veramente di soprannaturale cioè non c'è un nome e cognome è divino capito c'è qualcosa sì e c'è secondo me la vera mission di quel ragazzo che a 32 anni va dopo aver fatto i compiti con Steven Spielberg dalla Paramount e compagnia e cioè spesso è stato detto che anche ha ragione che il cinema di Mission Impossible è un cinema superomistico nel senso anche che dava Umberto Ego negli anni 60 scrive un libro un libretto celebre che si chiama Superuomo di Massa in cui discuteva di James Bond ok quindi quel superuomo lì ok e quindi giustamente Ethan Hunt potrebbe essere un figlio di James Bond benissimo ok ma oltre a essere diciamo superomistico secondo me ed è un lato ovviamente da prendere con molte pins superuomo che superuomo ma stai tranquillo ma insomma ma dove vai eccetera ok io vorrei dire che con Mission Impossible viene fuori il lato superumanistico perché dico superumanistico perché Tom Cruise ci fa vedere addirittura attraverso la trama che il suo obiettivo è fare un cinema in cui l'uomo sia l'essere umano sia al centro e questa cosa qui ed è lì che si vede anche il significato del suo ossessivo obiettivo ossessivo obiettivo l'ho detto non solo perché diciamo fa un po' rima ma perché l'obiettivo è anche l'obiettivo della macchina da presa di fare lui gli stunt perché perché uno dice ma perché fai gli stunt tra l'altro a volte no c'è una famosa c'è un famoso aneddoto che racconta Matt Damon non so se l'avete sentito in cui dopo che ha visto in che cos'era il protocollo fantasma sul Burj Khalifa ok e vada Tom Cruise ma scusa un attimo ma come hai fatto ma come hai fatto allora racconta che Tom Cruise gli dice allora I had a safety guy a safety guy told me that it was impossible to do it so I chose another safety guy mi sono preso un altro responsabile della sicurezza cioè lui e dici perché lo vuoi fare perché in maniera se vuoi un po' esagerata lui vuole dire io credo nel cinema fatto dagli uomini dagli esseri umani in carne ed os ovviamente non è che si può seguire alla lettera questa roba qua perché non è che dice tra l'altro Dead Reckoning è il primo perché fino a Dead Reckoning se non sbaglio sono stati girati tutti quanti in 35 mili in pellicola ok è il primo girato interamente in digitale questo per dire che non è un uomo all'antica è un uomo che gira in digitale ma in cui il nemico è l'intelligenza artificiale lui dice io anche nelle trami vi voglio dire che bisogna salvare l'essere umano la sua creatività anche la sua fragilità la sua possibilità di farsi male e questa roba qua tra l'altro fa eco con quello che succede in Top Gun Maverick che è uscito un anno prima perché in Top Gun Maverick qual è il nemico vero? sono troppo d'accordo con questa cosa che hai appena detto Top Gun Maverick che sono quelli là che tra l'altro non si capisce chi sono russi non russi inspecificabili sono i droni certo sono i droni bisogna rimettere insieme un team di uomini esatto e ti dico proprio un po' di tempo fa ne parlavamo cioè Top Gun Maverick che ha la nomination per miglior film così come Dead Reckoning ha avuto due nomination e scusami anche come miglior sceneggiatura è un pensare McQuarrie fa una cosa secondo me geniale Top Gun Maverick che a questo punto effettivamente sento connessa anche a Dead Reckoning cioè Tom Cruise capisce che la grande narrazione americana sta cambiando capisce che i grandi viaggi degli eroi sono tramontati che oggi anzi ci si perde molto di più in delle retoriche anti-eroistiche in delle retoriche più decostruite di personaggi più fallibili che è una cosa molto interessante da una parte però Tom Cruise capisce che lui non ha senso che perda la sua autenticità e quindi mette in discussione come si può essere Tom Cruise e allo stesso tempo parlare di fragilità perché in Top Gun Maverick con tutta quella ovviamente dinamica classicamente di cinema di grande azione americana che ci piace che a volte prendiamo in giro ma che comunque una domenica pomeriggio ti vedi con grande piacere c'è qualcosa che a questo punto effettivamente ora che mi ci ho fatto pensare c'è anche in Dead Reckoning che ha a che fare con il bisogno di per una figura come sono gli eroi di Top Gun Maverick e come Tom Cruise di mettersi in discussione in modo più autentico rispetto a come lo si faceva negli anni 80 cioè Tom Cruise può essere fallibile Tom Cruise può essere fragile Tom Cruise può perdere qualcuno che gli è caro può sbagliare e in Top Gun Maverick i cattivelli i bulletti devono mettersi in discussione molto più radicalmente anche Iceman nell'originale si metteva in discussione però il modo in cui vediamo anche Iceman invecchiato in questo qua è un fatto ma quando mai tu vedevi un eroe così infragilito e questo è una mossa come tu dicevi anche artigianale di Tom Cruise umanista di Tom Cruise di dire ok io sono quello che ti porta a questo cinema qua comunque sono il grande Atalante che si regge un po' tutto questo grande cinema d'altronde mi piace molto la metafora dell'Atalante grazie anche perché Atlantic esatto è Atlantico esatto esatto e come tu mi dicevi l'altra volta e come ne possiamo parlare anche adesso cioè Spielberg ha detto a Tom Cruise tu hai salvato ci hai salvato il culo ha usato poco questa parola quindi ci concediamo di usarla anche noi perché l'ha usata Spielberg cioè tu hai salvato il culo al cinema americano quello Spielberg che gli aveva dato lezioni è capito cioè quindi è assurdo che Tom Cruise che in tante cose ovviamente rappresenta una cosa che oggi si sta un po' perdendo però si prende carico di questa roba e dice io la faccio ancora però vi faccio vedere anche che anche in questo mondo c'è fragilità non è che io sono solo quel super uomo sono anche un essere che sta diventando grande che si sta mettendo in discussione che è un fatto cioè è particolare come dinamica in Tom Cruise mi piace questo tuo discorso sulla fragilità adesso vi dirò una cosa è solamente una coincidenza temporale Tom Cruise non è nato il 4 luglio è nato il 3 luglio tra quelli che sono nati il 3 luglio se uno va a vedere c'è Franz Kafka Kafka io sono andato a vedere c'è una lista che tu dici è una coincidenza ovviamente certo cosa c'è tra Kafka e Tom Cruise qua vai a vedere nella biografia di Tom Cruise Tom Cruise ha avuto un pessimo rapporto col padre come Kafka come Kafka e come il suo personaggio in Magnolia come il suo personaggio in Magnolia il personaggio il personaggio Tom Cruise è quindi qualcuno che il padre di Tom Cruise viene descritto dallo stesso Cruise come uno che menava in casa era un ingegnere elettronico sottolineo ingegnere elettronico cioè un uomo che intende avere un rapporto con la realtà con il controllo e della scienza e della tecnica per fare i suoi stunt Ciccio Cruise non è che solamente si allena ma controlla e si fa controllare mille volte cioè ricordiamoli insomma gli stunt più importanti cioè il Borgi Khalifa che noi adesso vediamo semplicemente colui che c'ha i guanti il Tum attaccato c'era l'Industria Light & Magic che gli aveva messo dei casi scusate l'Industria Light & Magic gli era tolti digitalmente ma insomma era appeso con dei cavi cioè per fare quella roba lì cioè quando Matt Damon dice l'aneddoto cioè il safety guy che è stato licenziato non era proprio un cretino cioè quindi c'è tutta la cosa del calcolo il calcolo significa poter controllare o almeno avere l'idea di controllare il padre a un certo punto comincia a lavorare per l'esercito canadese in questo suo ruolo e comincia nella storia di Tom Cruise quindi la fascinazione anche per la carriera militare lui non riesce a stare seduto sullo stesso banco lui cambierà un sacco di scuole nei primi anni è un irrequieto e ha due possibilità nella sua mente all'epoca o quella di diventare un frate francescano veramente lui aveva avuto una crescita cattolica e di diventare un frate francescano o a un certo punto di fare un percorso più militare che poi se volete le due cose un po' si assomigliano certo il rigore il rigore il distacco certo il distacco dalle cose effimere la super disciplina viene in mente cioè io poi ve lo racconterò dei miei incontri con Tom Cruise ma insomma intanto vi dico che quando lui ti stringe la mano cioè non è che ti stringe la mano così ti guarda fisso negli occhi quindi c'è molto questa roba qua tuttavia tuttavia quelli così duri a un certo punto sono troppo duri perché nell'armadio non tengano un'ombra ora sarà l'ombra di Kafka o l'ombra non l'ombra di Kafka ma Christopher McQuarrie che l'ha diretto negli ultimi Mission Impossible e che è quello dei soliti sospetti quindi uno che di ombre se ne intende ha detto che quello che gli piace dei film che dirige con Tom Cruise Christopher McQuarrie era stato lo sceneggiatore prima pure su Christopher McQuarrie poi vi dico una cosa che è molto interessante ma insomma lui conosce Tom Cruise e dice la cosa che mi piace di questi Mission Impossible con Tom Cruise è che lui è uno degli unici mega eroi di azione che fa vedere che ha paura esatto esatto che uno non lo direbbe mai cioè direbbe ma questo qua è super 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 indistruttibile invincibile quindi è quello che stavi dicendo te Andrea e sono incontri e l'altra cosa dell'Atlante quando hai fatto la cosa dell'Atlante io vedevo idealmente quelli non c'aveva solo il mappamondo che adesso non lo vedete ma c'è un mappamondino lì dell'Atlante ma lui si mette sopra di sé perché prima parlavamo del suo concetto super umanistico tutti coloro che lavorano lui ha un rispetto sul set un rispetto molto forte cosa che non gli impedisce ovviamente di fare delle mega sfuriate come durante credo le riprese di Dead Reckoning c'era tutto il problema del covid certo Dead Reckoning è stato aperto a Venezia e lui ci ha messo 500 mila euro di tasca sua per fare tutte le misure anti covid e a Londra poi successivamente mi sa che qualcuno sul set non rispettava e lui a un certo punto lo si è incazzato ma si è incazzato come se fosse un padre di famiglia ragazzi dai che stiamo tutti insieme cioè lui ha questo concetto per cui ed è per questo che lui io sul le varie volte che ho seguito Tom Cruise l'ho seguito in un red carpet a Vienna di uno dei Mission Impossible e noi eravamo diciamo dietro un cordone di giornalisti erano le due del pomeriggio a luglio faceva un caldo a Vienna cioè stavamo tutti così e lui faceva la spola tra noi con le interviste e tutta la gente che stava lì per firmare gli autografi e si sentiva quasi la sensazione che desse lo stesso identico tempo a noi e a loro e al di là di qualcuno dei nostri colleghi che diceva beh basta mi fai fare questa intervista chi di noi l'avete diceva no ma quello lì è Tom Cruise per lui anzi sono più importanti loro di te di te di te e dovevate vedere sotto al sole lui che firmava lui si è fatto due ore due ore e mezza sotto al sole tra noi giornalisti e pubblico questo è il superumanismo e però a questo punto tu mi mi hai tirato fuori un sacco di discorsi interessantissimi tra cui la parola ombre e a me vengono in mente due cose una che abbiamo già citato e che è Magnolia che è un film meraviglioso Magnolia è un film meraviglioso dove lui è un attore appunto secondary actor anche se alla fine in Magnolia tutti sono parte di un coro meraviglioso e ora ci andiamo ma anche che lui è l'ultimo protagonista di Stanley Kubrick cioè questo è un fatto Tom Cruise in Eyes Wide Shut è l'ultimo protagonista di Stanley Kubrick forse tra i più ombrosi dei suoi protagonisti affascinantissimo tra l'altro anche Eyes Wide Shut e Magnolia sono disponibili su Sky on Demand quindi tutto questo è interessante grazie grazie Andrea che lo ricordi si possono rivedere o vedere per la prima volta è anche uno dei più umani forse dei protagonisti di Kubrick cavolo anche quella cosa lì che odissea è un'odissea incredibile un'odissea proprio sia curiosa che è inquietante che è affascinante quella di Eyes Wide Shut un film che esce postumo un film con una misteriosità particolare e a me fa troppo mi interessa troppo questo fatto che Tom Cruise sia il protagonista di questo film mi piace una cosa che ha detto Zino ha detto uno dei più umani perché perché se poi pensate il cinema il cinema è una macchina il cinema fatto non il cinema visto è una macchina stritolante è una macchina stritolante certo perché noi poi ci ricordiamo cioè semplicemente dei casi che sono venuti più agli onori delle cronache dark della Hollywood degli anni d'oro se voi andate a vedere quello che ha dovuto passare Judy Garland sul set del Mago di Oz ed era una ragazzina vengono i brividi ma quello lì è un caso dice vabbè era ragazzina ma non bisogna essere ragazzini per essere stritolati e adesso mentre tu dicevi questa cosa dell'umano mi viene in mente i protagonisti dei film di Kubrick che sono cubricizzati cioè il Peter Sellers del Dottor Stranamore è cubricizzato il Malcolm McDowell cioè non esci più da quel marchio cubricchiano mentre Tom Cruise devo dire che col suo cappottino con la sua cosa eccetera eccetera devo dire che ne è uscito bene quando esce Ice White Shot? 99 l'anno di Magnolia stiamo parlando non solo dell'anno di Magnolia ma della fine del secolo della fine del millennio e Ice White Shot che vuol dire? occhio esatto c'è una frase idiomatica vuol dire tipo no in realtà è una posso dire è un cambio un po' stonante ma stonato dell'opposto perché in inglese dice Ice White Open esatto che significa occhi sbarrati no occhi spalancati diciamo se volessimo rendere anche la stranezza di Ice White Shot è occhi spalanchiusi eh sì è vero è un paradosso che poi qualcuno ha detto sono anche gli occhi della morte di Kubrick ok? e lui chiude ok e invece diciamo gli occhi di Tom Cruise in quel film sono molto aperti molto aperti fino alla fine sembra quasi che non che non si fa intaccare perché ve lo ribadisco torno un po' al personale quando lui ti stringe la mano adesso non si vede dammi la mano è vero comunque lo fai benissimo posso dire lui ha veramente gli Ice White Open e c'è anche una probabilmente è il cuore anche della sua filosofia di vita c'era qualcuno che raccontava qui siamo a livello di voci di corridoio voci quindi solo vociame ma che quando una volta venne a Roma e doveva fare un pezzo di red carpet così qualcuno diceva lui non ama ritornare indietro sono voci eh certo voci solamente voci però proviamo a prenderla questa questa ipotesi lui è lui è uno che guarda molto molto avanti io non so per quanto tempo ancora riuscirà a guardare avanti però devo dire se diciamo che quando lavoravi con Kubrick ci rimanevi sotto come attore stavolta nel caso di Ice White non è rimasto sotto l'attore semmai è rimasto sotto il regista cioè Tom Cruise è un è un tosto eh Tom Cruise è una è qualcosa cioè uno che riesce a muovere ancora oggi con Mission Impossible 7 questi new Top Gun Maverick cioè è qualcosa di più di un adesso non voglio evocare diciamo cose soprannaturali o divine perché no perché no però c'è c'è un carisma esatto c'è un carisma magnetico che però comunque ha la capacità voglio dire cioè nel 99 Tom Cruise è all'apice di un Mission Impossible che appunto ha sbancato sta sbancando appunto è uscito il primo nel 96 eccetera ha già c'è Jerry Maguire nel 96 che è un altro film dove lui comunque viene dipinto con quel tipo di eroe americano vincente anche in maniera già fragile però molto iconica 99 tu fai due due operazioni come sono Magnolia dove in Ice Way Chat lui comunque fa un viaggio onirico grottesco allegorico possiamo usare tante parole ma che è un viaggio di messa in discussione anche della sua stessa virilità se vogliamo per poi ritrovarsi per poi accettarsi per poi andare in un dialogo con Nicole Kidman complesso cioè l'ultima parola che dice Kubrick lo sappiamo qual è in Ice Way Chat ed è molto interessante che chiuda così la carriera Kubrick e in Magnolia invece abbiamo il figlio o meglio a me piace dire i nipoti del sogno americano perché io penso che Magnolia se Taxi Driver parla dei figli del sogno americano quindi quei primi eroi che non possono più essere eroi e quindi vengono mangiati un po' da quell'America che vuole che tutti sogniamo il loro sogno il sogno americano in Magnolia abbiamo i nipoti abbiamo i figli dei figli abbiamo questa prima generazione che un po' si ribella e un po' si ammette fragile un po' si dice io non devo più per forza cadere nella retorica del sogno americano e Tom Cruise in quel film è il figlio appunto figlio e nipote in questo gioco che addirittura fa il fomentatore di masse fa il personaggio che dice a tutti come devono andare a letto con le donne e tutto quanto in maniera anche molto volutamente volgare ma in realtà nasconde un bisogno di amore di essere amato e di dare amore perché poi nel suo momento con Julian Moore in realtà c'è una reciprocità dei due personaggi che secondo me è da capolavoro perché Magnolia è un capolavoro con le tue parole stai tirando fuori tu hai detto la virilità no? prima ancora di citare poi il personaggio di Magnolia anche qua proviamo a fare un gioco di reminder tutti quanti ci vengono in mente delle scene erotiche di Tom Cruise no 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 è vero e questo non è un caso e torniamo al discorso delle origini appunto e del francescano e del militare certo lui ok che poi viene visto come un'icona virile e che poi in Magnolia e lui secondo me è lì Magnolia fa quell'interpretazione che gli dà appunto la sua terza nomination questa volta come supporting actor perché vuole giocare con una cosa che però non vuole mostrare al cinema è singolare questa roba qui che un attore di quella portata non abbia mai e anche di quella portata erotica diciamolo non abbia mai avuto a nostra memoria e che quindi ci ha giocato prima quasi contemporaneamente perché tu giustamente facevi notare più o meno la contemporanea realtà di Svetschat e Magnolia gioca col fatto che lui con quella roba del sesso non è il suo anche per questo forse lui ne esce più umano dal film di Kubrick non lo tocca lui è veramente una specie di appunto The Last Samurai l'ultimo samurai ora questa roba qui detta così sembra non voglio che torniamo a Kafka cioè un personaggio che sia troppo troppo così granitico nasconde qualcosa certo però ho capito benissimo il tuo discorso e secondo me lui lo tira fuori nell'emotivo più che la sessualizzazione di Eyes Wide Shut è comunque legata in realtà a un'introspezione comunque metaforica profondamente metaforica anche materica c'è tutto il rapporto in Eyes Wide Shut a questo mondo completamente di limbo completamente quasi metafisico e questo mondo invece completamente viscerale e lui è semplicemente un uomo che deve riuscire a ricollegare i due mondi riuscire a essere di nuovo ponte invece Magnolia è proprio emotività pura Magnolia è proprio accettare di essere fragili ma nel suo senso in entrambi i film in entrambi i casi malgrado le trame siano ovviamente molto diverse e tu puoi vedere sono due film che hanno in comune una cosa che sono due film notturni certo molto e c'è una cosa che è comune allora sia in Eyes Wide Shut che in Magnolia lui ha a che fare con il sesso ok in un caso per i festini diciamo orgiastici in un caso perché fa il motivatore per gli uomini in entrambi i casi o lui non è mai eccitato cioè in Eyes Wide Shut quando gli passa no sì sì quando è dentro alla festa tu lo vedi ma non è che per un attimo cioè dici no è sempre però però è sempre che è come se fosse interessata a un'altra cosa è interessato proprio a un tipo di ricerca che ha a che fare con le cose che abbiamo detto e ha a che fare anche con un'altra cosa che l'amicizia maschile l'amicizia maschile l'accettazione magari anche per il discorso del padre dell'assenza magari quella cosa del padre è fondamentale ma quindi cerca cioè se voi pensate a Top Gun Maverick e tutta la scena con con Val Kilmer bellissima cioè lui lui crede veramente nell'amicizia l'abbraccio cioè sì se posso a questo punto dato che parlavi c'è più che l'eros è la filia il punto di ottimo di Tom Cruise no è quella quell'amore disincantato dal bisogno erotico se vogliamo dirla in un certo modo e lui sfugge infatti cioè l'unico momento in cui se vuoi si è prestato a quella commercializzazione dell'icona e semi erotica è in Risky Business però anche lì sta prendendo in giro certo è anche uno dei suoi primissimi ruoli sì poi giovanissimo lì però no bella questa cosa con Oliver Stone che tu citavi prima nato il 4 luglio effettivamente lì lui comunque impersonifica un personaggio all'inizio del film super patriottico interessato a appunto essere un'icona però poi decade anche per colpa poi della storia del film e della storia degli Stati Uniti in quel periodo e quindi forse viene scelto poi da sia da Oliver Stone ma poi anche da Kubrick e da Paul Thomas Anderson perché da una parte lui rappresenta appunto grazie a Mission Impossible e a questa tipologia di epopea dell'eroe americano l'eroe per Antonio Masi americano in quel periodo però ha sempre comunque quella quella piccola fragilità quel bisogno di essere di approvazione da parte di un gruppo che è ciò che ci caratterizza diciamo che il personaggio di Top Gun Maverick anche se non ci sembra esattamente fratello di quello che sto per dire ma è è fratello del personaggio sulla sedia a rotella di Nato il 4 luglio dice cosa ci hanno in comune il fatto che tutte le società militari no il fatto che per qualche modo sono entrati nell'ombra sono entrati nell'ombra ok e devono uscire fuori dall'ombra però ripeto se no rischia che qua ne esca fuori solamente il santino e noi non vogliamo fare i santini cioè un voler uscire dall'ombra ok che sia Nato il 4 luglio che sia Top Gun Maverick e poi c'è tutto il fatto dell'amicizia virile dell'amicizia maschile e gli abbracci in cui tra l'altro ci identificiamo e ci scopriamo ma come cavolo faccio ancora a piangere oggi nel 2022 perché Top Gun Maverick per l'abbraccio ecco allora questo è una chiave d'uscita e ti emozioni anche del fatto che se voi vedete l'abbraccio che si sono scambiati il giorno del luncheon il luncheon è la è il pranzo che che viene fatto con tutti i nominati degli Oscar ok il luncheon dell'anno scorso lui era nominato come produttore ok di Top Gun Maverick e c'era pure Steven Spielberg ok l'abbraccio che si sono scambiati con Steven Spielberg e io non ho mai visto perché ovviamente con tutta la gente che deve abbracciare non è che può abbracciare tutti cioè Tom Cruise che abbracciava Steven Spielberg non lo lasciava andare Steven Spielberg cioè e lì c'era anche il discorso del padre certo il discorso del padre certo per cosa stava all'istima Spielberg eh Fableman Fableman cosa racconta dei Fableman di della vita da bambino di Spielberg della sua storia e in particolare è il padre è lì c'è un altro padre se vogliamo per Spielberg che John Ford interpretato da Lynch tra l'altro bellissimo al di là della cosa di John Ford in realtà lì ma lì ci servirebbe un'altra puntata su Spielberg eh The Fablemans è un film che come dire letteralmente se lo guardiamo letteralmente è un film in cui lui racconta diciamo di due cose diciamo la nascita del suo amore per il cinema e le prime pratiche di cinema ma soprattutto se vedi proprio il timing del suo rapporto con i suoi genitori adesso non entrerò nei particolari ma ci sarebbe una cosa molto interessante da raccontare lasciamo per una prossima volta ebbene nel nel leader di The Fablemans noi vediamo che piano piano lui si distacca dalla figura materna e va verso il padre e il padre che poi lo porta nell'appartamento prima dell'incontro con David Lynch barra John Ford ok Steven Spielberg è uno che ha fatto i conti con il padre mancante il padre era mancante nei film di Spielberg o il padre era in altre faccende affaccendato se voi vedete incontri ravvicinati del terzo tipo il bambino figlio di Richard Reifus è arrabbiato a morte e legittimamente col fatto che il padre è impazzito per sti cavolo di alieni in E.T. il padre è assente ok per tanti fino prima di The Fablemans il passaggio che Spielberg fa è con Catch Me If You Can che non è solamente una commediola è un film meraviglioso c'ho scritto un articolo poi se vuoi te lo mando Catch Me If You Can è anche lì una storia in cui Leonardo Di Caprio scopre Christopher Walken come padre quindi quando io vedo abbracciare Tom Cruise così e lo sta abbracciando come una specie di padre d'altra parte gli ha fatto mettiamola così un po' da padre ok e cosa interpretava nella guerra dei mondi Tom Cruise padre padre e lo stringe forte perché gli manca gli manca qualcosa a Tom Cruise cioè quando io vi dico che ho cercato di non vivere in soggezione queste megastar perché io cercavo di vederle anche ma per loro come essere umano veramente perché loro loro sono imprigionati certo e mi riferisco ancora una volta a Stima e Spielberg Stima e Spielberg quando vince il Golden Globe per The Fablemans stiamo parlando della stessa stagione lui va sul palco dei Golden Globe e dice io voi mi conoscete come quello Yeti di Indiana Jones dello Square eccetera eccetera ma io sono questa roba qua di The Fablemans pochi se ne sono accorti di questa frase lui stava dicendo che per molti anni lo Steven Spielberg che conosciamo ok è stata non l'ha detto esattamente così ma se tu poi vai a leggere le interviste che lui ha fatto sul tema lui con i film che ha fatto lui ha voluto colmare un vuoto ok ma erano per così dire delle dei mascheramenti perché poi alla fine e questo lo racconterò la prossima volta se avremo l'occasione quando lui in incontri avvicinati Netti ci racconta che il padre era assente ebbene non è andata così nella storia di Spielberg e lui l'ha scoperto più avanti ma per una sua mancanza pazzesco vabbè comunque faremo una puntata faremo anche una puntata e qui quindi concludo quando lui sui Golden Club dice ragazzi cioè vabbè ma guardatemi come se dicesse guardatemi io sono quello che ha usato il cinema per colmare il fatto che ho avuto un problema con mio padre in realtà ce l'ha avuto con la madre il problema Steven Spielberg e The Fables ce lo fa vedere ok ora anche Tom Cruise fino adesso perché a me interessa anche l'uomo certo e mi piacerebbe che Tom Cruise un giorno al di là di tenere come un atlante diciamo le sorti del cinema mondiale come ci ricorda anche Spielberg insomma avesse anche lui un'occasione per fare il suo De Fable mezzo però a questo punto bellissima questa cosa che hai detto a questo punto anche un po' facendo le somme andando in chiusura ci hai dato oggettivamente anche dei nuovi modi per vedere o rivedere i film di Tom Cruise tra l'altro Mission Impossible Dead Reckoning è disponibile su Sky On Demand perché anche in quel film senza fare spoiler perché questo magari molti non l'hanno ancora visto c'è un momento di amicizia con la squadra no? c'è il concetto di squadra e di famiglia tutto questo aspetto dei film di Tom Cruise in tutti i Mission Impossible la squadra sia di figure che magari compaiono solo in quel film sia di figure che stanno per tutti i film in Top Gun Maverick la dimensione della famiglia della squadra che Tom Cruise che si è creato nel cinema è come se un po' citando quello che stai dicendo ci sono personaggi tipo Tom Cruise che fanno del cinema una realtà più reale della loro realtà no? la loro realtà diventa il modo in cui loro vivono la realtà attraverso i film che fanno però ti stridola questa cosa perché è una fuga nell'illusione però lui si è salvato un po' l'illusione non è solamente l'illusione che viene proiettata sullo schermo e quindi su di noi l'illusione innanzitutto quando lui dice io sono il primo spettatore ci sta anche dicendo che è il primo schermo su cui viene proiettata l'illusione il primo noi facciamo ridere in questo senso cioè a noi quando noi usciamo dal cinema e ci sentiamo una volta Tom Cruise una volta Philip Seymour Hoffman una volta Harrison Ford noi stiamo sperimentando un pizzichino del potere drogante che ha il cinema quelli lo fanno proprio di mestiere e dopo un po' diciamo la droga anche prima se ne prendi troppa e se la prendi troppo spesso ti uccide sto parlando del fatto che il cinema è un'illusione sapete come si dice in napoletano in napoletano antico come si dice il cinema non fanno riferimento in quel caso lì al cinema al movimento motion pictures al movimento i napoletani lo chiamano l'ombroglinto lenzuolo bellissimo questo è il suolo per il telo il telo che usavano l'antico napoletano è un imbroglio bellissimo questa cosa ok su questo potremmo fare 12 ore di puntata questo è uno dei miei temi preferiti ci ho fatto la mia tesi di laurea magistrale ma al di là di questo è interessante perché è tutte e due le cose da una parte è un'illusione dall'altra parte è un modo in cui uno processa se stesso certo come dici tu ti stritola certo come dici tu alla fine comunque ti chiudi in un mondo però a volte quel mondo io ne metto un riferimento a Fellini ma non mi perderò in questo racconto quel mondo può essere il mondo in cui tu ti salvi a me piace credere che la famiglia che tu vedi nella saga di Mission Impossible il viaggio dell'eroe che tu vedi nella saga di Mission Impossible che si rompe che si scompone che si ritrova comunque è un viaggio che Tom Cruise ha fatto come uomo non ti salvi se tu ti se tu ti proietti da un'altra parte rispetto a te stesso non ti salvi mai diciamo il cinema te lo devi fare dentro di te eh ok però forse il cinema stesso è un po' anche questo e appunto riprendendo appunto i napoletani diciamo che può essere intendono e se proiettano oppure diciamo Sigmund Freud ha cominciato a parlare no dell'effetto di proiezione no le proiezioni cioè i film i film i film veri che ti devi fare li fai quando vai a dormire Ice White Shot cioè quando vai a dormire e lì devi vedere quali sono i tuoi film perché i film che vedi sullo schermo rischiano di essere a volte una fuga rispetto ai tuoi film interiori e stiamo parlando non tanto di noi diciamo che poi noi possiamo fare sia i nostri film diciamo quando dormiamo li analizziamo sia quando andiamo al cinema io sto parlando di questi qua che lo fanno che incarnano a proposito dell'incarnazione nell'attesa attenzione nell'attesa che si profili e questo ci dice anche Mission Impossible Dead Reckoning un futuro che forse è già presente ed è stato anche tema come sapete degli scioperi degli sceneggiatori e degli attori che magari a un certo punto di Tom Cruise ma non solo Tom Cruise non esisteranno più non esisteranno più perché? perché ci saranno diciamo le versioni totalmente generate dall'intelligenza artificiale quella quella è probabilmente un però se posso dire cioè prima il fatto che gente così potente da un punto di vista di mestiere come Philip Simo Hoffman potremmo citare Heath Ledger a un certo punto vengono spaccati Robin Williams Robin Williams Robin Williams è molto in così Robin Williams diciamo che soffriva anche di una malattia degenerativa che l'ha portato insomma ma Coso è stato secondo me lì se lo racconta spesso Jim Carrey che racconta adesso molto spesso è stato Jim Carrey è nato lo stesso anno di Tom Cruise della depressione cioè quei mestieri lì in cui sono costantemente sotto i riflettori in cui ti dicono si è andato bene si è andato bene si è andato bene si è andato bene cioè quello lì è un mestiere in cui ti dicono si è andato bene ma che vuoi cioè dopo un po' no? cioè noi li guardiamo come delle grandi cioè sei costantemente sotto i riflettori sei schiacciato sei schiacciato e quindi devi farlo come ole cioè appunto come una maschera certo che poi a un certo punto della bigliette la togli però la maschera ci fai divertire a tutti quanti ti paghiamo la cosa del pagare è molto importante molto importante perché io sto facendo quella cosa per te pubblico perché tu mi paghi non perché io ho bisogno che tu mi applaudi perché se io a forza ho bisogno che tu mi applaudi io quando torno a casa non sento più il suono dell'applauso vado fuori certo interessante wow siamo arrivati parlando di Tom Cruise siamo riusciti secondo me a toccare dei temi che vanno completamente al di là anche del cinema stesso è questo il vero Dead Reckoning è questa la vera resa dei conti con se stessi alla fine sì e con le proprie proiezioni perché poi i sogni i nostri sogni sono delle proiezioni tu citavi Fellini adesso l'hai citato e non l'hai voluto no vabbè si aprirebbe un tema enorme sulla psicanalisi felliniana ma non ci perdiamo abbiamo citato prima David Lynch eh però io sono giusto per chiudere sono molto d'accordo con alcune delle cose che dici molto però penso magari c'è qualcosa di naiv in me non so può essere può essere meno esperienza no 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 è giovinezza non è un fatto di esperienza perché tu alla tua età puoi avere una cosa molto più esperienza di meno no è il fatto del passare del tempo il passare del tempo e ripeto il tempo è uno dei fattori fondamentali che fa il cinema cioè è costitutivo dell'oggetto filmico non è costitutivo dell'oggetto libro perché il libro lo scrivo e il tempo ce lo metto io direttore quello lì è proprio che faccio c'è una sequenza il rapporto con il tempo che passo infatti adesso vedremo una delle sfide che Mission Impossible pone personale anche su questo caso ha 61 anni ma quando è che già in Top Gun Maverick c'era un po' questo tema dell'invecchiamento capito cioè a un certo punto ma che farà la vera domanda è poi vedremo tra due anni il secondo capitolo di Mission Impossible ma poi che farà questo qua è interessante però io credo che questi film raccontino un uomo una persona che ha capito come portare un certo cinema nel 2022 2023 2024 2025 mi piace la tua visione del fatto che sia un po' un ultimo umanista e quindi che in realtà è l'ultimo dei Moigani questo mi piace molto perché io credo nell'umanesimo mi piace questo e mi piace credere che in un mondo in un mondo che è assurdo ci sia qualcosa di buono e di dolce nel cinema di Tom Cruise per quanto porti un certo racconto forte in realtà lui ha qualcosa in cui vuole salvarci assolutamente lui vuole ancora salvarsi poi dove andrà non lo so per ora abbiamo questo il presente è questo fatto qua e diciamo che per chiudere almeno al lato mio diciamo questo che è anche un dato da dire interessante per chi voglia vedere Mission Impossible delle regole che non l'ha visto che Don Cruise e Federico Fellini si incontrano che in Mission Impossible delle regole c'è Roma tra l'altro ci sono ci sono gli Spanish Steps ci sono la scalinata di Piazza di Spagna che guarda caso compari in un altro film che anche adesso sempre su Sky Cinema Fast X è molto interessante il fatto che due mega successi del 2023 abbiano delle scene importanti sugli Spanish Steps è anche molto interessante che la Fiat cioè che cosa una Fiat 500 piccolo pare che Christopher McQuarrie volesse mettere in una 500 dal 2017 insomma c'è un lato italiano non è questo qua non è retorichetta c'è un lato italiano perché ed era già stato in Italia con Mission Impossible con Tom Cruise Tom Cruise è sposato a Bracciano ok c'è un lato italiano e mi piace pensare che noi italiani che noi italiani abbiamo noi italiani siamo un popolo strano perché siamo un popolo che cioè siamo siamo il popolo appunto appunto il rinascimento Michelangelo diciamo Michelangelo ma adesso al di là di Michelangelo o Galileo Galilei ma siamo il popolo di Guglielmo Marconi per venire un po' più cioè siamo un popolo siamo 60 milioni adesso un po' di meno che nel corso della storia moderna cioè post medievale hanno prodotto delle mega figure che riuscivano a guardare al mondo Marco Polo ma fino a Guglielmo Marconi cioè Marco Polo e Guglielmo Marconi stanno insieme quindi abbiamo una mega capacità di essere universali però abbiamo anche un'altra cosa che che è questo qua ma dai e dai e dai cioè non abbiamo la magniloquenza come prima cosa e se riusciamo a mettere insieme e a insegnare a Tom Cruise che che lui è il nostro anche Guglielmo Marconi nuovo ma che a volte uno vorrebbe fare ma dai se mettiamo insieme queste cose qua secondo me è un bene interessante mi piace questa chiusa va bene grazie mille Francesco Castagnuovo grazie a Sky Italia per questa puntata Fico vediamo il cinema vediamo il cinema è importante ciao ragazzi ciao grazie grazie